All the good girls you take out for dinner Barocchiala, palla rebuttata direttamente di là Quindi free goal per Conegliano Ancora Igonus, Tim Samuro a seconda linea In questo caso Danesin battuta la ricezione di Adams Ha una mano! Ha una mano buona! Portman, questa volta è di Gennaro Deve uscire tra i metri Wolos Dalla seconda linea Igonu Stringe Ricezione di inizio Sulla battuta i danesi Wolos vada Igonu Chiude Polpo Le condizioni in partenza Stante la presenza di una ragazza di Gennaro All'esorio Non sono facili Poi parlare con queste risposte di Igonu 100% rispetto al 26 di prima E da questo punto di vista Zassa Ugella trova ottime risposte Da Mayers Che Un muro da alzare rispetto a Pollygonu Anche mi dò un po' più costo La flipperata che salva Monza È giusto anche parrocchiale Ma si rimette a posto Allora Igonu va in diagonale Un battuta Tesa su Hill Che ha qualche problemino Dei correre Wolos Allora vada ancora Da Hill Il muro A respingere la palla Ancora viva nel campo di Ponegliano La ricezione di Adam Saúolos All'inizio per Igonu Pezzamuro E d'altra parte è la personalità Che ha messo in campo nella serie positiva di vittoria E Igonu dalla seconda linea Va ad angolare Calgarotti Bagger per Begic Che decide di piazzarla C'è Hill sul profondo E Igonu dalla seconda linea La ricezione di Adam Saúolos A seconda linea di Igonu Impressionanti i doti La ricezione di Adam Saúolos All'inizio per Igonu Impressionante Il tuffo di Vanek A salvare Poi Meners va in pallonetto C'è arriva De Gennaro Wolos Da ferma Può scegliere Peregonu Un bel tocco sopra Le mani Ricezione di De Gennaro Sulla testa di Wolos All'indietro Dregonu Vanek A cercare De Gennaro Ricezione perfetta Wolos Per De Cruyff Si salva Monza Poi Wolos Per Egonu Abbatte Liss Casarotti Imbattuta La ricezione di Adams De Correre Wolos Palata per Egonu Che raccorsa Con che senti Casarotti Imbattuta La ricezione di Hill Poi Wolos All'indietro Degonu Sfinza Muro Attenzione Perché la flipperata La palla è ancora viva Poi Wolos Prova a chiudere La brava Ma Eners a respingere Egonu La piazza Sul profondo E per poco Non Saugena Non prende La ricezione Poi il pallonetto Di Danesi Ben coperto Da Ile Egonu Diagonale Questa volta Il muro E Marlina Trovando una terza Soluzione In azione lunga Balla molto vicina A rete Egonu Passa Meners Meners In tuffo Caravello A ricevere Egonu Non No 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 Grazie a tutti.